E' partita ufficialmente questa mattina la campagna elettorale di Fabrizio Di Stefano, candidato sindaco di Chieti per la Lega. L'ex parlamentare abruzzese inizierà nei prossimi giorni un tour per la città incontrando i rappresentanti di enti e associazioni e anche i dirigenti scolastici. Fondamentale per Di Stefano sarà il ruolo che dovrà avere per il futuro del capoluogo teatino l'Università Gabriele D'Annunzio. In questi giorni verrà ufficializzato il nuovo organigramma della Lega Abruzzo e chiederò agli organismi di competenza di iniziare immediatamente un tavolo con le forze tradizionali del centro-destra per studiare un progetto politico, trovare sintesi negli accordi. Contessualmente io invece farò la stessa cosa con le tante formazioni civiche presenti in città, cominciare da quella del sindaco, per coinvolgere il più larga fetta possibile di elettorato in questo progetto. Dopodiché però voglio coinvolgere la città. E allora farò un primo giro di ascolto. Un giro di ascolto che parte dai cosiddetti stakeholder, ma voglio anche andare a sentire i dirigenti scolastici per coinvolgere anche loro nella formazione di una nuova Chieti. Una volta concluso questo primo giro con tutto il mondo dell'associazione di unismo di cui Chieti è fervida, quello culturale, quello sociale e tutto quanto, comincerò un secondo giro in cui proporrò a loro quelle che sono le mie idee, quello che avrò sintetizzato dai loro suggerimenti, ma anche quello che penso di poter fare per questa città. Bisogna costruire il futuro di questa città sulla propria identità. L'identità di Chieti è quella culturale ed è quella legata alla cultura. Ecco perché il mio primo interlocutore nel giro di consultazioni sarà l'università. L'università è una grande ricchezza per questa città, ma deve essere coinvolta appieno nei processi ascenzionali e decisionali per il futuro di questa città. Poi Chieti deve ricollegarsi alla provincia. Oggi Chieti vive un isolamento rispetto al tessuto provinciale. Chieti si deve riaprire la provincia e riportare la provincia su Chieti in termini di interessi, di colleganza e di rapporti. Infine ci sono i problemi occupazionali che purtroppo attragliano non solo Chieti, ma un po' tutto l'Abruzzo. E su questo anche ho delle idee. Ma prima di entrare nel vivo io credo che soprattutto noi dobbiamo puntare su un orgoglio tiatino che ci faccia avere la consapevolezza che 3.200 anni di storia non devono essere soltanto un orpello da mettere sulla giacca, ma deve essere il pilastro su cui costruire il nostro rilancio.